Abbiamo approfittato della presenza del critico che non vuole andare a casa Non me ne vado più, dormo qua anche se no Non vuole tornare a Roma e abbiamo detto dai facciamo lo speciale Reinders Ci correggeranno in chat, forse ho sbagliato tutto il reel che ho fatto, che ho preparato Quindi esatto, spoileriamo un po' il reel che uscirà, lo diciamo già questa sera sulle tue pagine Perché è pieno di dati e il tuo reel parte con un, il Milan ha acquistato un grande centrocampista Intanto ragazzi per me se vi saluto, ciao ragazzi Tra l'altro tu avevi preparato anche qualche numerino di Sorrenders interessante Allora, lui ha nelle azioni in cui è stato coinvolto 5000 in questa stagione Che sono un'enormità Mi sono andato a prendere i dati di Ben Nasser, per paragonarli, era sui 3000 Ok con l'infortunio finale, però comunque non è che raggiungi 2000 in quelle partite finali Dei due mesi in cui si è staccato Ben Nasser Quindi ci fa capire che un giocatore che vuole la palla, la sa portare, la sa passare molto bene in verticale Perché ha il 91% dei passaggi riusciti, ma è anche molto sopra media rispetto al suo campionato Per passaggi in verticale e per passaggi filtranti Quindi ci fa capire che la personalità che i piedi le ha Non ha voglia tanto di correre dietro l'avversario Perché qualche difettuccio ce l'ha Cioè ha una media imbarazzante di contrasti vinti Cioè tipo ne vince uno ogni mille Una roba del genere Tra l'altro lui gioca a due, quindi molto probabilmente si presenteranno col centrocampo a due Loftus-Cic Lui gioca a due, io lo sai che però mi sono chiesto, ho visto un po' di analisi in giro Tanti mi dicono, eh no, per me con Reinders vanno a fare il 4-3-3 Forse perché si sente che vogliono prendere anche Musa del Valencia Però in realtà così vedendoli Loftus-Cic comunque ha giocato, ha fatto tutti i ruoli Però per me ha tutte le caratteristiche anche fisiche, no? Cioè il centrocampo a due me lo aspetto dinamico Fanno la diga davanti alla difesa E poi gli serve, gli serve Perché chi strappa la palla se Reinders vince tipo 8% i contrasti nella sua carriera È una roba incredibile Perché è un giocatore bello Cioè Reinders è un giocatore, da quello che ho visto io E non vi nascondo che quando faccio le analisi Vedo nel corso di una settimana Posso arrivare a 5-6 tempi non partite Perché anch'io ho una vita Però anche i dati ci raccontano di un giocatore bello da vedere Sempre a testa alta Quindi un dato che mi dicevi prima a pranzo Che mi raccontavi erano quei due tiri media partita Che per un mediano comunque nello specchio della porta sono Sono tanti, sono tiri totali Quindi lui cerca lo specchio Però comunque arriva a concludere I nostri li fanno in un anno probabilmente Sì sì sì, sono tanti tanti Perché a partita due Quindi comunque di media è molto Quindi Loftus-Cheek Diga davanti alla difesa Coppia diciamo solida Anche un po' un ritorno al passato Forse anche per Pioli Che va quasi a sostituire magari quel Cassi Che però ci va a mettere comunque anche un po' più di qualità Dicevi 8 gol e 7 assist complessivi stagionali Lo scorso anno Quindi un giocatore che comunque anche nelle gambe C'ha qualche numero, c'ha qualche statistica Tu dicevi al fantacalcio ci sta a tenerlo anche in considerazione Perché potrebbe essere un M Che va via poco Ma che comunque qualche bonus te lo porta Non spargiamo troppo la voce Esatto Ma tu il fantacalcio come è andato quest'anno? Guarda Nel campionato sono arrivato terzo Quindi mi sono ripagato l'iscrizione E poi mi hanno fatto una coppa E l'ho perso in finale Tipo per l'ammunizione di Rabiot contro il Bologna Vabbè Vabbè però non è andato Comunque io lo prendo Io proverò a prenderlo Io ho un milanista Lo consigliamo Io ho un milanista Nella Magari voi ce ne avete di più Siete più abitati Però a Roma non è facile fare l'assa del fantacalcio Quando hai uno che porta la bandiera di una squadra Perché giustamente vuole un po' Cioè non è che se lo distribuiscono Ecco Li prende tutti lui Quindi questo Milan vi sta convincendo Che non è anche te Luca Toselli Che possiamo finalmente salutare credo Ma ciao intanto ragazzi Ciao Luca Mi sembrava la descrizione del mio modo di giocare Un giocatore che è sempre a testa alta Che tira spesso in porta Qualità che sono proprio io Stava parlando di te Stava parlando di me No, sono tanti giocatori Questi qua che io non conosco Quindi Milan si potrà giudicare cammin facendo A me i nomi di Love2Cic e Pulisic Non dispiacciono Però come dicevate prima Sono i più famosi I più influenti Già conosciuti Credo che in un campionato come quello di Serie A Possano fare bene Però poi bisogna Anche controllare un attimo Perché Da ben a sera tonali Milan perde tanto A livello qualitativo Come dicevamo ieri Anche l'Inter Che perde Onana, Lukaku E tanti altri Skriniar, Brozovic Bisogna fare un attimo i conti Con quelli che arrivano Bisogna vedere se Saranno nomi Alla Napoli Perché anche l'anno scorso Il Napoli aveva perso tanti giocatori Poi quelli che sono arrivati Hanno fatto ampiamente Il loro Per quest'altro scudetto Ma te posso aggiungere una cosa Secondo me è importante Anche sottolineare Nel Milan Nella scelta societaria Dei giocatori comunque Giovanissima pronti Cioè 2,98 Reinders E Pulisic Che è 98 Quindi 25 anni Proprio La maturità calcistica Non ricordo Lo Stucic Forse è 96 Come me Sai che forse 5 Forse ci avevamo guardato l'altra sera Si doveva passare un 5 Però comunque Ci fa capire Che Ok C'ha una Una strada specifica Che sta percorrendo Il Milan Anche Cioè non solo Giroud In alternativa Con un giovane da crescere Ma magari qualche Ragazzetto Che deve anche Riprendersi Come Pulisic E lo Stucic Però che se si riprende Ho Un giocatore maturo Che non devo aspettare E me lo posso Anche portare Più avanti Negli anni No Devo dire interessante Sicuramente il Milan Ha secondo me Passato un po' Lo scossone Post Maldini E adesso sta veramente Installando Una buona Una buona squadra Cioè ci sono comunque Di nomi importanti Ma più che altro Mi piace perché Stanno prendendo Di nomi veramente funzionali E lo stesso Pulisic O Pulisic Che dir si voglia Là davanti Secondo me può ricoprire Ruoli diversi E Sentivo Il parere Di un mio amico Che Giustamente diceva Pulisic mi piace Perché ti permette Anche di avere Un rimpiazzo Importante Quando Leo Fa il cazzone Perché se Leo Fa il cazzone Comunque Pulisic Ha giocato anche Sulla sinistra Ha giocato anche Forte sulla sinistra Per cui eventualmente È anche uno di quei giocatori Che dice Ok devo riflettare Leao perché è uno Di quei weekend In cui non c'ha voglia E gioca con l'infradito Un po' Alla Vucinic E ci vado a mettere L'americano Che comunque È efficace Magari non strappa Proprio l'occhio Però è un giocatore Efficace Concreto Per cui Insomma anche da questo Punto di vista Però ecco Tornando sempre a Reinders Probabilmente anche per la descrizione Che hai fatto tu Il Milan sta comunque Probabilmente consolidando L'idea ancora Del centrocampo 2 Cioè quando E credo tu qua al tavolo Quando ci chiedevamo Di frattesi Che dicevamo Se veramente il Milan Vuole andare su frattesi Perché Pioli Probabilmente avrà un po' In mente Un po' l'idea Di passare al centrocampo 3 Con questo acquisto Non lo escludo No no Non c'è di escludere Però probabilmente Se non mi firmi Kamada Oddio Sì Kamada Vuol dire che E mi vendi Brandy a Z Vuol dire che Comunque la tua idea È di non avere Il trequartista Quindi Non lo escludo Però Bisogna fare cronaca E bisogna dire Che Reinders Sono due anni Che gioca in mediana Due Poi può fare Il vertice basso Sicuramente Può fare anche La mezzala Sicuramente Però comunque Sono due anni Ti aggiungo Su Pulisic Che mi dicevi L'altro giorno Ho letto una cosa Senza senso Su Opta Non ricordo I due giocatori In questione Ma Pulisic È il terzo giocatore Dal 2015 Al 2016 Per dribbling Riusciti Nei top 5 Campionati Dietro Tipo Messi Mbappé Una roba del genere Adesso non ricordo Ma Pulisic è terzo Incredibile Interessante Diopisicato Diopisicato Grazie a tutti.